Opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi. 9 agosto 2011. Eletti, amici cari, il tempo, che concedo ad ogni uomo è prezioso mio dono, come tale, deve essere vissuto. Il mondo ancora non ha compreso l'importanza di questo momento storico. Sposa cara, sto concedendo al mondo un tempo speciale per la conversione. Ogni uomo è chiamato alla conversione per godere presto le delizie del mio regno. Dimmi, piccola sposa quanti vedi impegnati per chiedere ed ottenere la conversione? Mi dici adorato, 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 tu stai concedendo tempo e grazie, ma vedo che pochi sono impegnati per la propria conversione e quella del mondo, vedo che pochi hanno compreso l'importanza di questo tempo. Dolce amore, gli uomini sono sempre stati di dura cervice, ma quelli del tempo presente ancora di più lo sono. Dopo venti secoli di cristianesimo, dovrebbero già essere convertiti tutti i popoli e le nazioni e ci dovrebbe essere la pace sulla terra, ma questo ancora non accade. Vedo uomini molto impegnati per avere le cose della terra, ma ne vedo pochi, che pensano ardentemente al cielo, come dovrebbero fare in un momento così importante e risolutivo. Tu, tu attendi, dolce amore, che le menti si aprano alla tua luce e la mandi sempre più fulgida, ma ancora gli uomini scelgono le tenebre. Perdona, Gesù adorabile, la stoltezza degli uomini di questo tempo, che ancora non hanno capito che un grande progetto è in atto, un progetto del tuo amore. Gli uomini ancora non hanno compreso, malgrado i segni, che devono convertirsi, perché la felicità da te preparata non sarà per i freddi di cuore, per gli increduli, per i viziosi, per gli ignavini e per i maliziosi e di prepotenti, ma sarà per coloro che ti hanno aperto il cuore, permettendoti di entrare ed abitare in esso. Vedo, spesso, in questo tempo, vedo il tuo volto triste, che guarda il bel pianeta bruricante di uomini, che non pensano a fare la tua volontà, non pensano al cielo, ma sono persi nelle cose della terra, come se su di essa dovessero restare per sempre. Quando ti vedo, dolce amore, quando ti vedo nella grande tristezza, provo un dolore forte e vorrei consolarti in ogni modo con la mia obbedienza, col mio amore, con la mia adorazione, Gesù adorato, i piccoli più piccoli ti adorano giorno e notte, notte e giorno, ma i grandi della terra, quelli che detengono il potere, spesso, non ti pensano, non ti lodano, non ti ringraziano, non ti adorano giorno e notte, notte e giorno, come meriti di essere adorato. Tu guardi il bel pianeta, da te voluto e creato, e lo adolgi con la tua misericordia infinita, ma, vedo, dolce amore, che gli uomini ancora poco comprendono la tua tenerezza, il tuo amore meraviglioso. Gli uomini della terra poco corrispondono al tuo piano di pace e gioia. Temo, dolce Gesù, temo molto, che presto alla misericordia segua la perfetta giustizia tua. Gli uomini, che rifiutano la misericordia cadono nella perfetta tua giustizia. Vorrei, dolce amore, che ogni uomo si facesse avvolgere ed abbracciare dalla tua misericordia e non cadesse nella rete sottilissima della tua perfetta giustizia. Dolce amore, concedi ancora la tua misericordia al mondo e non passare subito alla perfetta giustizia con la severa punizione. Sposa cara, ascolta bene le mie parole di questo giorno e trasmettile al mondo ogni uomo si affretti a cogliere il fiume della mia misericordia. Ogni uomo colga il momento, favorevole e speciale, per convertirsi dalla sua condotta malvagia. Pensa alla grande città di Ninive. Tutti si convertirono e fecero penitenza, secondo il mio ordine, e la città fu risparmiata. Il mondo si affretti a convertirsi ed ognuno si ravveda dalle sue colpe e certo non se ne repentirà. Sposa cara, si consideri dono prezioso ogni giorno e si viva in me? Resta, felice, nel mio cuore e godi nelle delizie d'amore. Ti amo. Vi amo. Gesù. La mamma parla agli eletti. Figli cari e tanto amati, vivete in Dio, per Dio, con Dio ogni giorno della vostra vita. Capite che potete avere tutto da Lui non solo in cielo, piccoli miei, non solo in cielo, ma anche un anticipo in terra. Capite, figli del mondo, quanto sia importante la vostra scelta di ogni giorno la piccola e la grande. Ricordate le mie parole, riguardanti le scelte, ricordatele, figli amati prima di ogni scelta, voi dite Gesù adorato, è secondo il tuo cuore la mia scelta? Figli cari, se siete certi, che a Gesù è gradita, fatela, diversamente, non fatela affatto. Mi dice la figlia amata madre, madre cara, spesso, non capiamo bene le cose, spesso facciamo scelte sbagliate, per la nostra superficialità. Aiutaci, dolce madre, aiutaci a fare sempre le scelte secondo Dio, con la gioia di fare la sua volontà. Aiutaci in questo cammino, spesso, così arduo e difficile. Figli amati, sono con voi ogni giorno con il permesso del padre caro, proprio per sostenervi nel cammino, proprio per aiutarvi, siate sicuri, siate certi la madre non vi lascia soli, ma vi prende per mano nel cammino, se voi, piccoli miei, non lasciate la mia mano, certo, vi salverete. Voglio la salvezza di ogni anima, e che nessuna vada perduta. Voglio la vostra vera felicità, figli amati del mondo. Non parlo a tutti, in generale, ma a ciascuno di voi, in particolare. Vi amo, figli del mondo, vi amo tutti allo stesso modo. Ascoltate la mia voce, che vi guida a mio figlio, vi guida alla felicità con lui. Vi chiedo preghiera ardente e conversione a chi prega col cuore ardente Dio concede la conversione, con la conversione viene la felicità. Figli del mondo, sono con voi da molto tempo perché siate felici nel presente e nel futuro. Senza mio figlio, non potete essere felici. Senza mio figlio, non c'è felicità. Insieme, cuore con cuore, l'odiamolo, ringraziamolo, adoriamolo. Vi amo tutti. Ti amo, Angelo mio. Maria Santissima.